Corsa in programma, prova clou del pomeriggio, premio Spagna, un doppio chilometro per soggetti di quattro anni, soliti frequentatori del circuito classico, soprattutto per i gruppi tre. Dallo steccato De Villopi, Dayard, Dolcezza Sergio, Dragons Bar, Daniele Jett, Donna Vittoria Parra e Donnie Maker. Con prudenza Dayard. Dolcezza Sergio, come prevedibile la più sollecita, Daniele Jett attacca Dragons Bar, vuole fare prima per sfilare su Dolcezza Sergio. Daniele Jett all'imbocco della prima piegata punta su Dolcezza Sergio e sembra poter ottenere il via libera. La prima mossa è sicuramente riuscita di Gaetano Di Nardo, che nel giro di 200 metri sfila a condurre. Sulla stessa Dolcezza Sergio, Dragons Bar parcheggia in terza posizione, Donnie Maker in quarta. Poi via via De Villopi. Donna Vittoria Parra e chiude Dayard. Dayard. Immediato il rallentamento del leader si lascia gestire al meglio. 37, il quarto iniziale. Viene fuori uno svolgimento tattico, almeno per il momento, e così Dayard dalle retrovie decide di risalire e non trova posizioni per il momento, tranne quella di Dragons Bar che abbandona i paletti. 46 e mezzo di 600, viene fuori anche Donnie Maker. Primi 800 metri completati in uno, due e mezzo. Adesso Dragons Bar va all'attacco di Daniele Jett. I due si accapigliano. Di fronte alla tribune scaturisce una frazione addirittura in 13 secchi. 1,15 e 6 il primo chilometro. Così recita il mio cronometro. Tornano a rifiatare davanti. In curva 200 metri in 14,6. Daniele Jett affiancato da Dragons Bar. Poi lungo i paletti Dolcezza Sergio, la rottura di Dayard. Seconda pariglia per Donnie Maker. Lungo lo streccato David Loppi in ultima posizione. Donna Vittoria Bar. Ancora un 14,5. Daniele Jett ha respinto fino a questo momento. Dragons Bar che adesso torna all'attacco. 1,59 scarsi in miglio. 14,2 di ultima frazione. Ingresso in retta d'arrivo con Daniele Jett in vantaggio. Dragons Bar ai suoi fianchi. Daniele Jett prova all'allungo. Sembra riuscire. Prende margine agli avversari. Daniele Jett si allunga al meglio. Viene anche stappato. Daniele Jett va a vincere. Mentre Dragons Bar è secondo. Per il terzo emerge probabilmente Donnie Maker su Dolcezza Sergio. 2,28. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1,13,5 sul doppio chilometro. Meritava un primo piano questo Daniele Jett. Edoardo avrebbe detto questo fantasma è andato davanti e non l'hanno più visto. Daniele Jett per il team Squiglia. Ghetano Di Nardo insalchi. Colori del team Tony Trans. Nel clou del pomeriggio partenopeo. Gheto. Grazie. Gheto. Grazie.